Ciao amiche, ciao amici, come fare per farti cercare da chi vuoi? Per farti cercare l'altra persona deve avere un interesse, altrimenti non ti cerca. Noi non facciamo nulla, siamo autoreferenziati, non facciamo nulla se non abbiamo un interesse per farlo. Ovviamente questo interesse non deve essere solo un interesse logico e razionale, potrebbe anche essere un interesse emotivo, un interesse di qualunque genere. Noi cerchiamo, le persone ci avviciniamo a chi diventa un po' l'attrattore nei nostri confronti. E quindi la cosa peggiore che puoi fare è quello di chiedere a un'altra persona e dai usciamo e facciamo questo assieme e vorrei vederti e non posso stare senza di te e come faccio e qua e là e su e giù, perché se fai questo ottieni esattamente il contrario. Cioè ricordati questa frase, chi chiede è perdente e chi sa attrarre che è vincente. Quindi devi saper attrarre e per attrarre devi mettere delle esche. E queste esche quali sono? Beh dipende dal soggetto con cui hai a che fare, cioè dipende dall'ambito in cui. Devi comunque mettere delle esche e mettere il dubbio che se lui o se lei non farà qualcosa, l'esca, se la può mangiare un altro pesce. Questo è. Cioè il pesciolino, diciamo così, deve vedere l'esca, ma deve vedere che ci sono altri pesci pronti a mangiarsi quest'esca. Per cui, perché se no, come dire, se l'esca è lì, io c'ho quel piatto lì che è lì sempre pronto, disponibile, ogni volta che lo voglio posso prendermelo senza problemi. non ho possibilità di, diciamo, posso prendermelo senza problemi, non ho possibilità, cioè non ho neanche interesse di andarla a cercare, di andarla a inseguire. Lo lascio lì, quando mi servirà lo utilizzerò. Mentre invece, se tu riesci, diciamo, a far intendere che ci sono altri pesci, allora, a quel punto lì, questi altri pesci diventeranno degli antagonisti che ti spingeranno a inseguire quell'esca. E più inseguirai quell'esca, più ti coinvolgerai, perché ci saranno graduali difficoltà al raggiungimento dell'esca. E tu dovrai superare sempre queste difficoltà, e più le superi, più ti coinvolge. A un certo punto l'esca diventa, come dire, l'unico obiettivo della tua vita. E questo è quello che devi fare se vuoi far sì che qualcuno ti cerchi, che qualcuno ti insegua, che qualcuno ti voglia. E queste esche non devi fargli maniare, perché se no il pesce magna e poi si è dimenticato e va a cercarsi un'altra esca. Quindi l'abilità vera è quella di capire quali sono le esche giuste per quella persona. Questa è l'abilità del bravo seduttore, della brava seduttrice. E le esche potrebbero essere tutto, potrebbe essere dal sesso, all'idea di una vita più agiata, qualunque cosa. A uno stile di vita, a un prestigio sociale, qualunque cosa. L'importante è che questo qualunque cosa non venga mai erogato completamente, altrimenti perde di valenza. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!